Ciao a tutti da Mirko! Oggi vediamo come collegare e configurare e aggiornare il sistema digitale Sharkbyte HD0. Piccola premessa, al momento troviamo i nomi Sharkbyte e HD0, tuttavia HD0 sta pian piano sostituendo Sharkbyte, che in futuro verrà dismesso. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, HD0 è un sistema di trasmissione FPV in digitale che si pone come alternativa sia al sistema analogico che a quello di J.I. Ok, detto questo per iniziare con HD0 ci servirà un modulo per gli occhiali, una videotrasmittente ed una videocamera FPV HD. Inoltre ci serviranno anche 3 antenne, 2 da usare con il modulo e una da usare con la VTX. Se l'antenna per la VTX poi a connettore SMA servirà anche una prolunga con connettore IPEX. Partiamo con un veloce unboxing del modulo ricevente. All'interno della confezione abbiamo il modulo, un cavo mini HDMI, due cavi per l'alimentazione, un kit per agganciare il modulo, un cavo per l'aggiornamento firmware ed un joystick per le configurazioni della VTX. Il modulo andrà abbinato agli occhiali FPV che usiamo con il sistema analogico, unico requisito necessario è che abbiano un ingresso mini HDMI. A tal proposito tutti gli occhiali Fatshark di ultima generazione ne hanno uno. Tuttavia non è obbligatorio avere dei Fatshark, ma possiamo usare qualsiasi modello disponga di una porta mini HDMI, come ad esempio gli Skyzone o gli Sheen. A questo punto posso montare il modulo agli occhiali, sarà sufficiente sostituire il copriventola e usare la vite per agganciarlo. Il risultato finale sarà questo. Dopo aver fissato il modulo lo collego agli occhiali con il cavo HDMI. A questo punto passiamo all'alimentazione, qui abbiamo due possibilità. La prima è aggiungere al box batteria il cavo corto. In questo modo il box alimenterà sia il modulo che gli occhiali. Non so ancora dire se questa opzione sia valida, in quanto il sistema potrebbe scaricare molto velocemente le batterie. Se optate per questa soluzione usate delle Lion da 3000mAh di marca, come ad esempio queste Samsung 30Q. La seconda soluzione è usare questo cavo che supporta batterie fino a 4S. Il cavo non segnala quando la batteria è scarica, quindi bisognerà verificare che la batteria sia sufficientemente carica prima del volo. Onestamente da questo punto di vista si poteva fare qualcosina in più, perlomeno sarebbe stato meglio un cavo che supportasse anche l'SIS. A questo punto non ci rimane che procedere con l'aggiornamento firmware del modulo, troviamo tutto quello che ci serve sul sito HD0, vi lascio il link in descrizione. Bisogna precisare che il modulo e le VTX devono avere la stessa versione firmware, per questo motivo l'archivio zip che andremo a scaricare conterrà sia il firmware del modulo che quello delle varie VTX, più avanti vedremo anche come aggiornarle. Quindi clicco qui per scaricare. A questo punto ci servirà una microSD per copiare i file, prima però è importante che questa sia formatata in FAT32, per non sbagliarci la formatiamo direttamente dagli occhiali. Quindi la inserisco nel suo slot in questo verso. Purtroppo non riesco a inquadrare bene attraverso la lente, comunque per accedere al menu Sistema bisogna mandare due volte la rotella verso sinistra. Nel visore ci apparirà una schermata come questa, a questo punto quindi cliccate su Format SD Card. Dopo aver formatato la microSD possiamo collegarla al PC. Su questo lato ho la microSD che ho appena formattato, mentre da questa parte ho la cartella Download dove prima ho scaricato il file dal sito HD0, quindi non mi rimane che estrarlo. Entro dentro la cartella e apro il file che inizia con RX 5.1. A questo punto non mi rimane che trascinare tutto il contenuto dell'archivio zip nella radice della microSD. Ok ora faccio rimozione sicura dell'hardware e rimetto la microSD nel modulo Fatshark. Adesso siamo pronti per aggiornare il firmware del modulo. In questo passaggio è essenziale usare una lipo completamente carica per evitare che il processo si interrompa durante l'aggiornamento. Qui andremo veloci ma vi ricordo che l'aggiornamento firmware del modulo impiega circa 5-10 minuti, quindi abbiate un po' di pazienza. Ok non mi rimane che alimentare il sistema, l'aggiornamento firmware partirà in automatico non appena collegherò la batteria. Durante l'aggiornamento verranno scritti i file SHARKBYTE, HD0RX ed HD0VA, fin tanto che il sistema sta aggiornando questi file toccatelo il meno possibile. Dopo aver aggiornato i file comparirà questa schermata, questo indica che l'aggiornamento è terminato con successo. A questo punto non rimane che togliere l'alimentazione per qualche secondo, poi rimetterla. Con il modulo abbiamo finito, passiamo alla VTX. Al momento abbiamo a disposizione i modelli TX5S.1 e Race V2, la prima per droni classe Toothpick, la seconda per droni racing. Il modello WHOOP è fuori 26x26mm e si monta a ruotata di 45 gradi nei classici stack Toothpick. All'occorrenza possiamo usare un adattatore 20x20 o 30x30 per aumentarne la compatibilità. Il modello Race V2 è una scheda 20x20 con gommini soft mount. Anche in questo caso volendo possiamo usare un adattatore per montarla su stack 30x30. Entrambe le VTX hanno una potenza massima di 200mW, non sono tantissimi ma per queste tipologie di droni sono più che sufficienti. Tuttavia molto presto verrà introdotta sul mercato la nuova VTX HD0 da 1W, in modo che chi fa Freestyle o Long Range abbia maggior potenza e di conseguenza un segnale più solido. Si trova già in pre-order sui volistore, quindi è questione di pochissimo. Le VTX HD0 comunque si collegano e si configurano tutte allo stesso modo, quindi per questo tutorial userò il modello WHOOP. La prima cosa da fare con le VTX HD0 è l'aggiornamento firmware, questo perchè, come abbiamo detto prima, modulo e VTX devono avere la stessa versione. L'aggiornamento della VTX avviene tramite collegamento col modulo usando il cavo che ci viene fornito in dotazione. La procedura è del tutto simile a quella che abbiamo visto prima per il modulo, si tratterà di copiare i file sulla microSD e far partire l'aggiornamento in automatico alimentando il sistema. Ok, eccoci di nuovo sul PC, anche questa volta ho la microSD sulla destra e la cartella Download sulla sinistra. Quindi entro nuovamente nella cartella dei firmware che ho estratto prima. Questa volta apro l'archivio WHOOP.TXS5.1 e trascino il contenuto della cartella all'interno della microSD. Qui ho finito, faccio rimozione sicura dell'hardware e inserisco nuovamente la microSD nel modulo. Ok siamo pronti, prima di aggiornare però facciamo qualche precisazione. Per prima cosa durante l'aggiornamento firmware è obbligatorio collegare l'antenna alla VTX, in caso contrario la VTX potrebbe danneggiarsi in modo permanente. In secondo luogo non è necessario che la VTX sia collegata o alimentata dal modello, in quanto sarà il modulo che si occuperà di alimentare la VTX. Per ultimo, proprio come col modulo, quando aggiornate la videotrasmittente assicuratevi di usare una LiPo completamente carica, per non rischiare che il modulo si spenga durante l'aggiornamento. Siamo pronti, la VTX è collegata, la microSD è nel modulo, quindi non mi rimane che alimentare il sistema per far partire in automatico l'aggiornamento. Durante l'aggiornamento verrà scritto il file hd0.tx. A fine scrittura apparirà questa schermata, per indicare che l'aggiornamento della VTX è terminato con successo. Ora è venuto il momento di collegare la VTX al Flight Controller, iniziamo saldando i cavetti in questa serie di pad. Per quanto riguarda i pad, con la VTX rivolta in questo verso e partendo dall'alto abbiamo Terra, Alimentazione, RX e TX. Per convenzione saldiamo il cavo nero sulla terra e quello rosso sull'alimentazione, poi usiamo il verde per l'RX e il blu per il TX. Ora che ho saldato i cavi sono pronto per il collegamento con il Flight Controller. Qui posso scegliere se alimentare la scheda tramite BEC o collegarla in linea diretta con la LiPo. Tutte e due le soluzioni sono valide, ma in entrambi i casi bisogna prestare un po' di attenzione. Se scegliete di alimentare la VTX tramite BEC bisogna precisare che quella 5V che usiamo per le riceventi non va bene e non può essere usato. Quello che ci serve è un secondo BEC che fornisca una tensione superiore ai 7V e di solito se presente fornisce una tensione da 9, 10 o 12V. Inoltre assicuratevi che questo BEC fornisca ampers sufficienti per la VTX. Da questo punto di vista se si tratta di una scheda studiata per il digitale DJI è perfetta pure per quella HT0. Se invece decidete di collegare la VTX in linea diretta con la LiPo bisogna stare attenti alla tensione in ingresso. Sia la VTX WHOOP che quella RACE supportano un LiPo da 2 a 6 celle, e fin tanto che rimanete in questo range non c'è nessun problema ad alimentarla in questo modo. Se optate per l'alimentazione via LiPo è necessario montare nella build un condensatore da 330uF o superiore. Io userò questa Racer Star F7 Lite, si tratta di un flight controller per digitale che ha un BEC a 9V che fornisce ampers sufficienti per questa VTX. Inoltre collegherò i fili RX e TX su una UART del flight controller, e come sempre quando si tratta di fili RX e TX vanno collegati invertiti tra loro. Quindi collegherò l'RX della VTX sul TX del flight controller, e il TX della VTX sul RX del flight controller. Questi collegamenti sono necessari per visualizzare a schermo l'OSD di Betaflight, in modo da avere sul visore tutti i valori che di solito vediamo con l'analogico. A tal proposito il sistema HD0 è compatibile al 100% con l'OSD di Betaflight, quindi potremo vedere ogni singolo valore che è disponibile per l'analogico. Per avere questa feature chiamata CanvasMod è necessario avere Betaflight 4.2.8 o superiore. A questo punto non mi rimane che saldare i cavi. A questo punto non mi rimane che saldare i cavi. Perfetto, ora passiamo a Betaflight per configurare la VTX. Come ho detto prima, per sfruttare al massimo il sistema HD0 è necessario avere Betaflight 4.2.8 o superiore. Io ho la versione 4.2.11 quindi sono a posto. Adesso andiamo in Ports e individuiamo la UART dove abbiamo collegato la VTX, nel mio caso la UART5. Quindi attivo Configurazione MSP con velocità 115.200, poi salvo. Ora mi sposto nel tab CLI e digito la seguente stringa. Set OSD DisplayPort Device uguale MSP. Set DisplayPort MSP Serial uguale 4. Save. Quindi premo invio. Piccola precisazione su questo punto della stringa, ovvero il numero 4. Qui dobbiamo mettere il numero della porta UART che abbiamo usato meno 1. Quindi visto che ho collegato la VTX nella 5 ho scritto 4. Se voi avete collegato su un'altra UART sottraete 1 dal numero e scrivete il risultato. Ora che abbiamo collegato e configurato la videotrasmittente non ci rimane che montare la videocamera, ma anche qui bisogna fare qualche precisazione. Innanzi tutto la videocamera deve essere studiata apposta per funzionare con il sistema SharkBite HD0. A tal proposito non possiamo usare né una videocamera analogica, né una di quelle del sistema digitale DJI. In secondo luogo prestate attenzione al cavo di collegamento, ovvero il cavo MIPI. Non tutti i modelli di videocamera ne includono uno, e di certo il cavo MIPI non viene mai fornito con la VTX. Quindi nel caso non si è incluso con la videocamera dovete prenderla a parte, anche in questo caso fate attenzione che il cavo deve essere compatibile con videocamera HD0. Per questo tutorial ho scelto la Runcam Nano HD, tra le varie proposte potete valutare anche la Fuxir DigiSight o la Runcam HD0, ve le lascio tutte linkate in descrizione. A questo punto infilo gentilmente il connettore nella VTX. Il cavo, sia per il modello Whoop che quello Race, deve essere rivolto verso l'interno. Ora non mi rimane che inserire le componenti all'interno del modello per completare la build. Come vedete ho sistemato tutto e sono pronto ad usare il sistema HD0. Il funzionamento del sistema SharkBite HD0 è piuttosto semplice, all'accensione del modulo parte l'autoscan che aggancia in automatico la frequenza della VTX. A differenza dell'analogico il digitale trova subito la frequenza esatta, quindi con questo sistema l'autoscan è una cosa che si può fare senza problemi. Per quanto riguarda i vari menu, come abbiamo detto all'inizio video, per accedere a quello del modulo bisogna mandare due volte a sinistra questa rotella. In verità nel menu del modulo non c'è molto da fare, e le impostazioni predefinite vanno bene un po' per tutti gli usi. Più interessanti sono i menu i quali possiamo accedere tramite il movimento degli stick e che vediamo riportati direttamente sugli occhiali. In questa schermata abbiamo i vari movimenti da fare e i vari menu che ci sono a disposizione. Il VTX menu è quello della videotrasmittente, dove tra le altre cose possiamo cambiare la potenza e la frequenza della VTX. Per accedere a questo menu bisogna mandare lo stick sinistro in basso a destra e quello destro in basso a sinistra. Il Betaflight menu non ha bisogno di presentazioni, è lo stesso identico menu che usiamo con l'analogico dove possiamo fare le regolazioni PID e tutto il resto. La sequenza per accedervi è sempre la stessa. Questi due menu sono per le regolazioni interne della videocamera, qui possiamo modificare luminosità, colore, contrasto, saturazione eccetera. Ovviamente non tutte le videocamere hanno le stesse impostazioni, le quali variano da modello a modello. Sia per le videocamere HD0 che per quelle di terze parti si accede al menu mandando per 3 secondi lo stick sinistro a destra. Tra le due cambia leggermente il modo di navigazione come riportato nello schema. Una cosa molto interessante è appunto poter accedere a queste impostazioni direttamente dal radiocomando, mentre sull'analogico dovevamo usare il joystick dell'USD o collegare un cavetto a parte. Perfetto, a questo punto diamo un rapido sguardo all'interno dei vari menu, lascerò il tapino dell'obiettivo in modo da rendere più chiare le varie scritte. inizialmente il video. Molto bene eccoci arrivati alla fine di questo lungo tutorial, dove abbiamo visto come muovere i primi passi se vogliamo iniziare con HD0. Se vi interessano altri contenuti su questo sistema non mancheranno le recensioni delle altre videocamere VTX che abbiamo visto in questo tutorial. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso i link in descrizione o diventando miei Patrons cliccando il link a fine video. Grazie a tutti!